Anna Boschi, Contaminazioni, la lezione di un artista in dialogo costante con la vita e la poesia di Donato Di Poce. Si tratta di un libro che non è un classico libro di critiche d'arte, né un catalogo e non ha nessuna pretesa esaustiva, storica o documentale. Semplicemente la piccola storia di un'amicizia tra un artista e un poeta con molte affinità artistiche e umane, la piccola storia di una contaminazione. Troverete nel libro una sorta di carteggio intimo e segreto, alcune curiosità, carte carigrafiche, poesie scritte da Donato Di Poce dedicate ad Anna Boschi.